Quasi 500 partecipanti, tra i quali molti studenti che arriveranno da tutta Italia, mentre saranno appena 10 gli studenti delle scuole medie e superiori sul Monesi, sono i numeri del Sentiero della Libertà che diventa maggiorenne. Il dato è stato sottolineato dagli organizzatori che hanno voluto evidenziare la mancata adesione rispetto al passato di studenti sul Monesi. Una piccola nota stonata, forse riconducibile anche alla vicenda che ha visto protagoniste l'associazione e il liceo Fermi. Ma per la marcia è tutto pronto. Venerdì 27 aprile la manifestazione è tanto cara. L'ex Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi parte per la sua diciottesima edizione. Ad attendere i marciatori del Sentiero a Sagrario della Blicata Maiella, sabato 28 aprile, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento che riporta la memoria alla prima edizione, quella del 2001, quando il Sentiero venne inaugurato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi, memore dei giorni trascorsi confinato a Scanno. Ciampi poi donò a Sentiero il suo diario pubblicato dalla terza. Quest'anno il Sentiero sarà caratterizzato dalla commemorazione di alcuni martiri della libertà, spiegato Mario Setta, già docente di filosofia del liceo scientifico Fermi. Basta pensare ad alcuni personaggi, come Ettore De Corti, come Donato Ricchiuti, giovani e ancora, tra l'altro, come i giovani caduti della Blicata Maiella, e si tratta di cinquantina di persone, che hanno dato la vita perché ci fosse la libertà, non solo dell'Italia, dell'Abruzzo, ma di tutti. Questo è il messaggio più importante, il messaggio fondamentale. Intanto, accanto al Sentiero della Libertà, si prepara per il futuro un altro percorso della memoria, promosso dai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio di quella che fu la linea Gustav, che divise in due la penisola, tra il territorio nelle mani dei tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e il territorio in mano degli alleati. Capofila del progetto è il sindaco di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro. Dove aver fatto tappa a Campodigiove, Taranta Peligna e Fidontrail, si concluderà domenica 29 aprile a Casoli.